Nelle scuole spesso si costruiscono dei cubi e si studia questo poliedro che è un poliedro regolare, molto semplice. In questa attività vorremmo invece studiare un poliedro decisamente più complesso che però non viene conosciuto anche se tutti lo amano, è un pallone da calcio in cui possiamo riconoscere 12 pentagoni regolari e 20 esagoni regolari. Partiremo allora da questo poliedro che è un icosaedro regolare, è un poliedro delimitato da 20 triangoli equilateri e 5 di essi si incontrano in un vertice. Nel sito del progetto ci sono gli sviluppi che permettono di ricostruirlo, non è possibile costruirlo in un pezzo solo perché quello che si può stampare con una stampante usuale viene troppo piccolo e allora vedremo come si possa ottenere con 5 pezzi tutti uguali che andranno incollati in modo opportuno. Il icosaedro si ottiene da 5 sviluppi uguali e è importante quando si piega premere con qualcosa di appuntito come una penna che non scrive più, i bambini non possono usare cose appuntite in modo da ottenere poi una piega ben netta. Il passo successivo è quello di ricostruire un icosaedro uguale al precedente, uguale come forma, ma abbiamo qui colorato le punte e possiamo immaginare di vedervi delle piramidi a base pentagonale. Che succede quando le tagliamo via? Questo poliedro il cui nome è icosaedro troncato può essere ottenuto con un certo numero di pezzi uguali 5 di questo tipo per costruire una fascia intorno al poliedro stesso e poi bisogna attaccarci sopra una parte superiore e una parte inferiore e le piramidi hanno anche loro il loro sviluppo. La cosa che bisogna fare per ottenere questo effetto magnetico è prima di costruire gli oggetti di attaccarci con un nastro adesivo una piccola rondella di metallo ed un piccolo magnete nella parte corrispondente. Ed ecco l'oggetto che ci permetterà di comprendere la struttura che avevamo detto del pallone da calcio. Vediamo che questo oggetto è esattamente uguale al precedente icosaedro ma qui le piramidi possono essere tolte ed ecco che come per magia quello che otteniamo è proprio un pallone da calcio.